Lunedì 13 agosto, buon inizio di settimana dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Daniele Ricciuto. Appuntamento per gli operatori internazionali il prossimo 24 e 25 settembre a Termoli. 60 imprese di Abruzzo, Molise e Sardegna, di cui 30 molisane, parteciperanno ad un workshop agroalimentare organizzato dall'Istituto per il Commercio Estero. È prevista la partecipazione di compratori internazionali provenienti dall'Europa e dal Medio Oriente. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. Saranno 60 imprese operanti nel settore agroalimentare ad incontrarsi il prossimo 24 e 25 settembre a Termoli. L'occasione è un workshop agroalimentare organizzato dall'Istituto per il Commercio Estero nell'ambito del piano Export Sud 2, finanziato complessivamente da risorse europee pari a 50 milioni di euro. Risorse destinate a favorire le piccole e medie imprese interessate alla internazionalizzazione dei propri prodotti. Obiettivo del piano è quello di trasformare potenziali aziende esportatrici in esportatori abituali e incrementare la quota di export delle regioni del mezzogiorno. L'incontro di Termoli è destinato alle imprese provenienti da Abruzzo, Molise e Sardegna. Tra queste la metà saranno molisane e prevede la presenza di operatori e compratori internazionali provenienti dall'Europa centro-orientale, dal Regno Unito e dal Medio Oriente. Sarà quindi una valida occasione per far conoscere tanto le tipicità regionali quanto i territori in cui queste vengono prodotte. Il workshop di Termoli, ha fatto notare il presidente Toma, è uno dei primi risultati dell'intesa tra la regione Molise e l'Istituto per il Commercio Estero. Attraverso il piano Export Sud 2 puntiamo all'aumento delle esportazioni e al consolidamento del rapporto delle nostre imprese con l'estero. Stiamo lavorando, ha continuato Toma, in sinergia con tutte le associazioni di categoria, gli imprenditori, per una forte campagna di rilancio delle attività produttive molisane, in particolare del settore enogastronomico, che qui da noi è caratterizzato da livelli di alta competitività. Soddisfatto anche l'assessore al turismo, cultura e marketing territoriale Vincenzo Cotugno. Si tratta, ferma, di una grande opportunità in quanto si offre alle imprese molisane che operano nel settore agroalimentare la possibilità di poter incontrare 20 buyers provenienti da tutto il mondo e stringere con loro nuovi contratti. Siamo grati all'Istituto per il Commercio Estero, ha detto Vincenzo Cotugno, per l'ottimo lavoro che sta svolgendo con le sue agenzie per la buona riuscita del programma PES2 e siamo orgogliosi che abbia voluto promuovere proprio nella nostra regione questa importante vetrina internazionale per presentare le tante eccellenze del settore agroalimentare. Borse di studio per i giovani meritevoli e programmi di scambio culturale all'estero sono alcune delle iniziative realizzate dalla Filitalia International. A Capomarino si è svolta la festa annuale dell'associazione guidata da Liliana Corfiati. Ce ne parla in questo servizio Fabrizio Occhionero. Promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero valorizzando i giovani talenti un impegno consolidato nel tempo, quello della Filitalia International. 31 anni di servizio volontario, solidarietà e vincolo tra le generazioni. A Capomarino riuscita la festa dell'associazione in piazza Santa Maria a mare un evento organizzato da Liliana Corfiati, presidente del chapter di Campobasso e patrocinato dall'amministrazione comunale. Numerose le attività condivise con le famiglie consolidando un ponte culturale con gli italiani all'estero. Filitalia International oltre a promuovere la cultura, la lingua, le tradizioni aiuta moltissimo i giovani nel senso che dà ai ragazzi delle borse di studio, ai ragazzi volenterosi per poter incoraggiarli e per l'incoraggia a continuare gli studi, non solo, ma poi c'è anche l'exchange program che promuove la Filitalia, cioè lo scambio tra studenti, nel senso che noi possiamo mandare ragazzi nostri in America per fare degli stage di perfezionamento per quando riguarda il lavoro. Questa mission mi dà una grande soddisfazione perché aiutare i ragazzi oggi è importantissimo, soprattutto nel campo del lavoro. Una serata di festa, musica, spettacolo, poesie, ancora canto, ballo e tradizioni ricordando i molisani nel mondo con la partecipazione di artisti e numerosi ospiti, presenti autorità locali e regionali, delegazioni della Filitalia arrivate da altre regioni e anche dagli Stati Uniti. La condivisione di un progetto significativo, aperto a iniziative socio-culturali tenendo sempre vivi i principi dell'associazione fondata da Pasquale Nestico con sensibilità e l'Italia sempre nel cuore. Filitalia vuol dire filo che collega gli Stati Uniti con l'Italia, col mondo, filo vuol dire anche amore per l'Italia e vuol dire anche che è nata a Filadelfia. E quindi sono estremamente felice di essere qui in mezzo a questa tanta brava gente. È la quinta volta che vengo. Complimenti e congratulazioni alla fondatrice e presidente del chat di Campopasso, Ligliano Corfiati e al suo direttivo che ha fatto di questo programma, di questo evento, una cosa così bella e che attrae tanta gente. Con la nostra informazione ci fermiamo. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In primo piano la regione blocca l'inceneritore dell'ospedale Cardarelli. L'impianto va adeguato. Autorizzazione al momento sospesa. Ci spostiamo nel basso Molise, sulla costa Termoli in particolare. Uomo di 45 anni rischia di annegare, salvato da un bagnino volontario. E ancora, barca si rovescia, la guardia costiera salva un gruppo di turisti. Ci sono diversi richiami. C'è ancora un approfondimento sul caporalato, su un'operazione condotta nel fine settimana. La polizia di Termoli blocca un furgone con 20 lavoratori sulla Stratale 16. L'autista è stato arrestato. In basso vi segnalo la sezione editoriali Idee e Opinioni. Le notizie che arrivano dalla regione e quelle che riguardano l'Italia. Ora i quotidiani che troverete in edicola oggi. Iniziamo con primo piano. C'è un focus sul turismo. Molise, maglia nera. Cotugno, l'assessore, invertiremo il trend. Impietosi i dati di confartigianato sul 2017. Regione all'ultimo posto per arrivi e presenze. L'assessore illustra le mosse per cambiare rotta. Piano strategico e nuova legge di settore. Tanto Palazzo Vitale punta anche sulla formazione degli addetti ai lavori. Presto un bollino di qualità. Di spalla si parla della sanità. In particolare del commissario ad acta. La lega dice che l'incarico deve essere affidato al presidente della regione Toma. Le notizie sotto la testata. Barca in avaria e gommone contro gli scogli salvati in 15. Ci sono stati due interventi alle isole Tremiti. A Termoli invece rischia di annegare il bagnino. Evita il peggio. Vedete questa foto. Tra gli uomini più influenti del pianeta. Giuliano Testa torna nella sua cerce maggiore. È il chirurgo dei trapianti che negli Stati Uniti ha realizzato il primo intervento che riguarda l'utero. E per il time Giuliano Testa è una delle 100 personalità più influenti del pianeta. Vediamo gli altri titoli di spalla. Finito il conto alla rovescia per la Don Milani. Restano comunque i dubbi. Il segno invece oltre 2 milioni per gestire i parcheggi. Adesso arriva anche il bando. In basso, fermo biologico. Pescherecci in porto. Col diretti lancia l'allarme. Dice arriveranno prodotti stranieri o congelati. Il calcio. Circelli. Sinceri con i tifosi. Dice bisogna ricostruire. Il patron del lupo. Non c'erano neanche i palloni. Ci spostiamo in Alto Molise. Ad Agnone. Memorial di Tella. Al Civitelle. In campo Agnonese. E Vasto Girardi. Il calcio di eccellenza. Termoli. Il nuovo allenatore sarà Giuseppe Capacchione. Chiudiamo. Primo piano. Adesso ci spostiamo sul quotidiano del Molise. Guerra della grotta fra parroco e sindaco. L'autizia arriva da Pietracupa. Una disputa di guareschiana memoria sull'uso e il possesso della bellissima chiesa rupestre. Anche qui il turismo confartigianato ci pone in fondo alla classifica. Ultimi per numero di arrivi. La cronaca. Le notizie sotto la testata. Imbarcazione si rovescia a largo delle isole Tremiti. La capitaneria salva cinque ragazzi. Pescherecci all'ancora scatta il fermo. Il fermo biologico resta in vigore fino al 23 settembre. Dai Sene invece le soste blu diventano d'oro. Il comune le raddoppia. Costeranno 80 centesimi l'ora. Torniamo a centropagina. Un molisano l'inchiesta su un traffico internazionale di beni archeologici. L'operazione Demetra. Sono state emesse 23 misure cautelari. Nel box in basso Asrem, inceneritore del Cardarelli, sospesa l'attività. C'è un ritorno su Molise Cinema. Cala il sipario. Ci sono i nomi dei vincitori. Mentre per quanto riguarda il cinema noir, Giancarlo De Castaldo sarà l'ospite. Arriba Limosani. Festa totale per il palio delle Quercigliole. In basso c'è il calcio. Dal capoluogo, Branichi dice Prometto di mettere in campo cuore e grinta. C'è un'intervista al centravanti polacco chiamato Ulk. Dai Sene invece i primi gol stagionali portano le firme di Palma e Di Matteo. Calcio d'eccellenza, Vasto Girardi, Bontessi, Namichevole, Marinucci Show, Treppini, K.O. Ancora più in basso, in promozione, Aurora Capriattese, Ecco Di Pilla, Saulino e Bertone. Torniamo sul web con futuro Molise. In apertura il dato sul turismo. Maglia nera d'Italia per quanto riguarda il turismo. I dati al momento sono impietosi. Altri titoli, ha ancora senso aprire i centri commerciali il giorno di ferragosto? Beh, questo è un bel quesito, un bel interrogativo. Si torna anche a parlare delle tv locali fuori dai contributi. Il governatore Toma chiederò una modifica del provvedimento. La cronaca da Termoli, 45 anni, rischia di annegare salvato da un bagnino volontario. Di noi, gli appuntamenti di questo periodo, cresce l'attesa a San Pietro in valle per la Sagra del Tartufo, appuntamento sabato 18 e domenica 19 agosto. Andiamo a Termoli dove è stata inaugurata la statua in bronzo dedicata a Benito Iacovitti. Dall'informazione locale a quella nazionale, con il Corriere della Sera, l'Italia non teme attacchi, si parla di attacchi economici. Il vicepremier Di Maio dice, allarme per i mercati, non siamo ricattabili. Nell'intervista un decreto per ricostruire la cassa integrazione. Poi aggiunge nel Movimento 5 Stelle idee malsane sui vaccini. A centropagina, ritorno della leva, 30 a Salvini, 30 alla Ministra della Difesa. Non è più tempo, dice appunto la titolare di Castello della Difesa. Vedete questa bella foto, l'oro delle azzurre del tuffo perfetto. Bertocchi e Pellaccani, quindi nella finale dei tuffi, sincro da 3 metri, appunto, agli europei 2018. Dal Corriere della Sera, adesso andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Migranti, il buco del Viminale sui rimpatri. Tunisini sbarcati il 3 agosto in Sicilia, si sono dileguati e hanno raggiunto Parigi. SOS dall'Aquarius con a bordo 141 persone. C'è un reportage sulle gang che operano a Londra. Quelle vite uccise dalla guerra Rapp. E adesso, quest'altra notizia, ieri è stata anticipata dai TG. Troppe distrazioni al volante, stretta sugli smartphone. Il ministro, ci sarà il ritiro della patente, ha detto appunto il ministro Toninelli. Adesso il fatto quotidiano. Con la mappa del potere giallo-verde. Nomi nuovi e di seconda mano. E un focus sulle nomine. Le scelte dei 5 Stelle della Lega tra novità e porte girevoli. Altro titolo. I 38 mila Euro delle ONG rimasti in cassa ai Renzi. Su una questione family viene definita dal fatto. I PM gli dicono spettano ai bambini dell'Africa. Dal fatto quotidiano adesso a Libero. Cosa pensa la gente di Salvini? C'è un sondaggio sul vicepremiere e sui suoi rapporti con il Cavaliere. Per i forza leghisti, Matteo tutela gli interessi dell'alleanza e al governo sta facendo bene. Poi, aggiungono se cade l'esecutivo, chi vota Carroccio preferisce il ritorno all'asse Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Gli elettori azzurri vogliono che Silvio crei un nuovo partito per rilanciare gli ideali di Forza Italia. Il governo bisticcia pure sul servizio militare. Altra rogna, la grillina 30 del Ministro della Difesa boccia l'idea del Ministro dell'Interno. Da Libero adesso al mattino, che apre proprio con questa notizia, 30 che dice più caserme al sud del Ministro della Difesa. Il fronte strategico è cambiato e favoriamo i ricongiungimenti familiari. Notizia a centropagina, c'è un'inchiesta del mattino. Follia, chatta la guida, tornano a crescere gli incidenti mortali. 100 vittime in più nei primi sei mesi del 2018. E quest'altra foto, non c'è il passaggio a livello, travolto dal treno. La notizia arriva da Somma Vesuviana, attraversa in scooter e binari. Non ha sentito i segnali. Anche il messaggero apre con la notizia del ritorno, della proposta di ritorno alla leva di Salvini. 30 dice, il Ministro 30, caserme, puntiamo sul sud. Il piano della difesa dopo l'ondata di suicidi di militari, psicologi e ricongiungimento con le famiglie. Scontro con Salvini che vuole la leva obbligatoria. Titolo a centro pagina, arriva l'accattonaggio molesto. La Lega, previsti, multe e carcere. La proposta di Molteni sul nuovo reato. Dice, in questa maniera combattiamo il racket. Anche qui la foto, il tuffo che vale l'ultimo oro, è di una romana di 15 anni. Vedete qui ancora Pellaccani ed Elena Bertocchi. Chiudiamo il messaggero. Siamo sull'altro quotidiano romano. Il tempo, ecco i soldi alle forze dell'ordine. Le assunzioni si fanno. Salvini promette sblocco del turnover e innesti extra. Arriva la bloccata d'ossigeno per gli organici di polizia, militari e vigili del fuoco. Qualche altro titolo. Il carrozzone di Stato non muore mai. Si parla delle partecipate che dovevano sparire. Invece non solo sopravvivono, ma crescono. Il record è nel Lazio. La verità. Tutti gli affari della Caritas S.P.A. Milioni di ragioni per tifare invasione. Vediamo di capire questo titolo. L'ente della CEI ha aumentato attività e fatturati, soprattutto grazie ai bandi per i migranti. Ecco perché influenza tanto le diocesi. Intanto rispunta l'Aquarius. La Merkel in vacanza in Spagna scopre il caos in migrati. Dalla verità al secolo d'Italia, basta follie e no vax. C'è un approfondimento anche sulla notizia che è stata anticipata ieri dai giornali. Tutto nasce su Facebook dove una donna ha dichiarato di aver fatto una falsa autocertificazione e verrà denunciata. In basso, usi lo smartphone e guidi, rischi di perdere la patente. E adesso la Gazzetta dello Sport. Ieri è stato il giorno di CR7. Cristi Amo titola in apertura la Gazzetta dello Sport. Festa per Ronaldo. Segna dopo 7 minuti e 16 secondi a Villar Perosa. Emozione dice grazie ai tifosi. Parla anche John Elkan. È la squadra più forte ed ora ha il più forte. In alto invece Bakayoko. Prestito Chelsea. Il Milan trova altri muscoli. Dall'altra parte Lautaro strega l'Inter. In un solo mese sarà titolare. Spazio alle ragazze dei tuffi. Che tuffi un oro a 15 anni per la Canida Record. In coppia con Bertocchi. Nella 25 chilometri trionfa anche la Caimana a Bridi. Bene anche il ciclismo. Vai Trentin. Primo titolo di Cassani CT. Bene, con queste buone notizie che arrivano dal mondo dello sport. In particolare il nuoto e il ciclismo. Terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Il TG torna alle 14. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.